conto alla rovescia sta per terminare axel e jessica sarete presto impegnati nella coppa del mondo di boogie boogie un appuntamento molto importante per la quale vi siete preparati lo possiamo dire per anni sono ormai diversi anni che ballate che vi allenati assieme l'emozione sicuramente sta per salire però una cosa è certa siete pronti per affrontare questa manifestazione al tower airport sì siamo molto pronti sono davvero molti mesi che ci prepariamo per questa gara di coppa del mondo soprattutto per da quando ci hanno detto che appunto è stata confermata questa tappa di coppa del mondo siamo molto emozionati perché è la prima volta che balliamo in casa soprattutto qua a genova e siamo davvero molto emozionati davvero poter ballare davanti alle nostre famiglie poter ballare davanti ai nostri amici è un'emozione che porta a veramente lavorare e migliorarsi sempre di più jessica vorrei fare qualche passo indietro insieme a te e parlare di quando avete iniziato insieme questa avventura allora noi abbiamo iniziato cinque anni fa che ci ha fatto provare il nostro insegnante e da lì poi andando avanti con fatica perché poi non è subito facile avere risultati tutto ci è sempre piaciuto di più e ci divertiamo comunque come ballo risultati non tardano ad arrivare vogliamo elencare quelli che sono i principali traguardi che questa coppia raggiunto abbiamo raggiunto soprattutto uno dei questi di più importanti quest'anno il secondo posto al campionato italiano assoluto e che ci ha portato per il secondo anno di fila ad entrare nella nazionale italiana abbiamo vinto il campionato regionale abbiamo siamo sempre vince capi vice campioni del campionato italiano e poi abbiamo fatto un quarto posto in coppa del mondo a mosca e un ottavo posto sfiorando la finale nel campionato europeo a stoccarda ecco come si trova la sintonia con il proprio partner durante il ballo quanto tempo ci vuole insomma raccontaci un po anche quante volte vi allenate alla settimana su quali aspetti vi concentrate allora ci andiamo due volte a settimana per due ore e diciamo che la sintonia non viene subito vieni dopo un po che si balla da tanto tempo e quindi anche alcune volte difficile capire il ballerino quello che fa perché comunque è un ballo di improvvisazione quindi decide tutto il partner e non la ballerina ma cosa si parte si parte dalle basi dal conoscere il proprio partner e come ha detto jessica appunto è un ballo che soprattutto a livello agonistico e anche nel social dance quindi nelle serate gioca molto sull'interpretazione musicale appunto e sull'improvvisazione è questo feeling questo poter comandare la ballerina si sviluppa nel tempo ed è una cosa non facile soprattutto all'inizio perché in primis io ho avuto molte difficoltà però crescendo andando avanti e soprattutto quello che aiuta molto è ballare appunto nelle serate di social dance anche ballare con altre ballerine e questo porta a sviluppare il proprio la propria capacità nel comandare alla ballerina al tower airport gareggerete in casa insomma ci saranno tanti amici familiari a vedervi sarà una bella emozione abbassi ovviamente quali sono le ambizioni le aspettative per questa coppa del mondo c'è un risultato che vi siete posti in mente il risultato più importante per questa coppa del mondo sarà ovviamente divertirci sarà il risultato molto importante ovviamente vorremmo raggiungere il podio vorremmo interrompere quella maledizione che ci porta sempre fuori dalla finale oppure a un passo dal dal podio però il vero obiettivo è divertirci fa far divertire soprattutto i nostri amici che ci hanno sempre i nostri amici la nostra famiglia che ci ha sempre supportato e il nostro obiettivo è questo appunto divertirci e passare un po di tempo con le persone che non vediamo molto spesso perché la nazionale italiana di boogie boogie soprattutto non si incontra molto spesso essendo che le gare sono abbastanza distribuite nella in tutto l'anno quindi il nostro obiettivo come ho detto prima divertirci